PUNTI ENERGIA, PUNTI ENERGIA, PUNTI ENERGIA, PUNTI ENERGIA, PUNTI ENERGIA, INCREDIBILLE, INCREDIBILLE, UN ALTRO BRAWLER EPICO, TRE BRAWLER EPICI, IN UNA SOLA SERATA, INCREDIBILLE, NON CI POSSO CREDERE, NON CI POSSO CREDERE, DRAGON, ME NE FATTI TROVARE DUE, NON CI POSSO CREDERE, E ALTRI GETTONI, mamma mia, io sono scioccato, io sono scioccato, sono scioccato, ora tocca a Dark Boy 78 ragazzi, Dark Boy 78 sceglierà la cassa, sopra o sotto? Forza Dark Boy 78, sopra o sotto? Vediamo, sotto? Ok, sotto per Dark Boy, sotto per Dark Boy, vediamo qual è la prima cassa, è questa, ok, 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 Dark Boy 78, mi porterà fortuna, monete, punti energia, punti energia, punti energia, punti energia, punti energia, punti energia, nooo, niente, Dark Boy non è andata, sceglierà ora Mariangela, prima Mariangela che è la mia moderatrice, chi, chi, sopra o sotto Mary, sopra o sotto, sopra o sotto? No vabbè, Mr. Se, c'è più di una cassa, forza Mariangela, sopra o sotto? Dove prendiamo sta cassa? Dai, dai che mi porti bene, dai che mi porti fortuna, dai che mi porti fortuna, dai! Soda, dai, sopra, ok, la cassa di sopra, vediamo un po', la cassa di sopra è questa qui, è andato a dire il suo nome due volte, Mariangela, Mariangela portafortuna, Mariangela portafortuna, apriamo! Monete! Poca' energia! Poca' energia! Poca' energia! Poca' energia! Poca' energia! Poca' energia! Niente! Nooo! La sfiga! Niente, vabbè, ci ha provato!